Ai nostri microfoni Mariella Santucci, Mariella una partita sicuramente forse più difficile di quanto vi sareste aspettati non so cosa avevate preparato in settimana nel poco tempo che avete a disposizione visti tutti questi back to back nelle competizioni che avete quindi complimenti prima di tutto per la vittoria c'è stato un momento della partita in cui in telecronaca dicevamo che eri dappertutto hai fatto 3-4 azioni in attacco in cui eri veramente te contro Moncalieri e in difesa Idem quindi anche per questo e per questa prestazione i nostri complimenti qualche parola su questo match, su questo momento della stagione complicato ma c'è anche da commentare la bellissima vittoria di anche un singolo punto però contro Schio Sicuramente oggi è stata una partita molto combattuta il nostro piano era concentrarci sulle palle perse abbiamo fatto un cattivo lavoro su quell'aspetto lì siamo state brave comunque anche se Moncalieri tornava ogni volta quando avevamo una piccola lead loro tornavano ogni volta siamo state a ribanere lì fino al quarto quarto poi il quarto quarto dare tutta l'energia che avevamo che erano sicuramente poche rispetto a quelle che ci aspettavamo complimenti a loro hanno fatto una partita super sono state molto brave, hanno attaccato i nostri punti più deboli a livello difensivo, cioè sulle nostre rotazioni che dobbiamo ancora lavorarci e soprattutto anche a rimbalzo d'attacco e inoltre anche le palle perse erano molto bravi a concretizzare dall'altra parte quindi su quell'aspetto dobbiamo lavorarci abbastanza però alla fine è stata una bella vittoria e una vittoria è sempre una vittoria come quella di Schio e di Uno è sicuramente stata una super vittoria anche per noi Ok, bocca al lupo per i prosegui della stagione Grazie Crepi Grazie 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 Grazie